Il Consiglio della Toscana ha provato a maggioranza la variazione di bilancio necessaria a far fronte all'aumento di spesa sanitaria per il contrasto al Covid, inseriti nel provvedimento anche vari interventi, tra cui infrastrutture stradali e impiantistica sportiva. In tre luoghi simbolo del Valdarno, la mostra è dedicata a Venturino Venturi, l'artista che lavorò a lungo sui temi della memoria condivisa in Toscana. La variazione di bilancio Il Consiglio della Regione Toscana ha approvato a maggioranza l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2022, la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e gli interventi normativi collegati. I provvedimenti che hanno accolto gli emendamenti presentati in aula dal Presidente Gianni sono passati con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e il voto contrario dei gruppi di opposizione. La manovra finanziaria della Regione Toscana, necessaria anche a far fronte al disavanzo in sanità dovuto all'emergenza pandemica, ha consentito di chiudere il bilancio in pareggio, nonostante la copertura solo per il 20% da parte dello Stato delle spese sanitarie per fronteggiare il Covid. La variazione chiude i conti, ha detto in aula il Presidente della Regione, Eugenio Gianni, che ha tuttavia avvertito del rischio legato al finanziamento delle opere pubbliche che devono fare i conti con l'aumento esponenziale del costo delle materie prime, rincari che potrebbero incidere pesantemente su progetti di lavori partiti prima del conflitto in Ucraina. Gianni ha poi illustrato anche gli emendamenti presentati all'Aula e che riguardano rimodulazioni e finanziamento di interventi di varia natura. Ci sono tanti interventi di spese in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritario, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei, fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370.000 euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema aviario toscano, in particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinate alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano, ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la regione toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. In realtà potremmo dire che sono due variazioni di bilancio perché naturalmente, come accade molto spesso a seduta iniziata, la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi, a rimodulare alcune spese che in qualche modo vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo perché questo non crea le condizioni per i consiglieri, soprattutto consiglieri di minoranza, di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Detto questo, l'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la Regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Una variazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra Regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati cinque mesi anche di trattativa politica, la nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse e tenere i conti in equilibrio ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF, questo è stato un motivo del nostro agire anche per quanto riguarda il bollo dell'auto, c'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo da aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Le spese sanitarie vanno coperte e per l'ennesima volta la regione insieme allo Stato ha ripianato il buco delle ASL che è ammontato, ci ha spiegato il Presidente di Commissione, a circa 550 milioni di euro, sfiorando il commissariamento della Sanità Toscana. Ma oltre a questo ci sono tutta una serie di interventi a pioggia inseriti all'interno di questa manovra di bilancio senza una reale programmazione, tant'è che Anci e UPI hanno criticato con una lettera aperta la regione perché non ha svolto la concertazione adeguata sulla manovra di bilancio e soprattutto denunciando il fatto, come noi denunciamo da molti mesi, che questa amministrazione procede ormai dall'inizio della consigliatura senza il piano regionale di sviluppo e con un defro, cioè il documento di finanza regionale, poco aggiornato e poco concertato con il territorio. Per questo motivo anche il Consiglio delle Autonomie Locali che deve esprimere parere obbligatorio sulla manovra di bilancio alla fine ha deciso di non esprimere alcun parere. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni perché Gianni sta facendo invece figli e figliastri. Il governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo ma io direi ancora di più in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande devo farle in aula. Eravamo abituati a benaltro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bui. In regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Questo consente di rimediare a ciò che le spese per il Covid avevano portato a espandere il bilancio 2021. Noi sostanzialmente abbiamo dovuto trasferire con quest'ultimo atto, che è un atto di poco più di 50 milioni, ma in complesso in un anno e mezzo più di 400 milioni di spese, di bilancio da quello che sono i capitoli dei vari assessorati, tutti sulla sanità per poter chiudere. Ma ce l'abbiamo fatta con l'obiettivo fondamentale, non gravare con ulteriori imposte e tasse ai cittadini. Tutto all'interno del bilancio senza aumentare le imposte. Dall'altra è evidente che le variazioni bilancio contengono anche la capacità di rispondere a una serie di problemi concreti, ma direi proprio di elettoralistico non c'è niente. Tanto è vero che anche nelle ultime indicazioni di variazione abbiamo messo i 9 milioni e mezzo per la bonifica delle falde nella città di Piombino. Interventi che possono creare le condizioni perché lo Stato investa anche esso e quindi risorse su una bonifica attesa da anni e risorse sul prolungare la graduatoria degli impianti sportivi. L'impiantistica sportiva era arrivata ad avere più di 200 domande tutte da comuni. In realtà sapendo che potevamo rispondere solo a 50 positivamente con questa integrazione di 9 milioni e 370 noi arriviamo a coprire almeno un'ottantina i comuni. L'impegno civile di Venturino Venturi Un percorso espositivo che è anche un percorso a tappe in tre luoghi culturali simbolo per il Valdarno, il Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini e Museo Mine di Cavriglia. I tre comuni assieme alla regione promuovono la mostra dedicata all'impegno civile di Venturino Venturi, Vedere il giorno e la notte, mostra presentata a Palazzo del Pegaso. L'evento vuol far conoscere ad un nuovo pubblico l'impegno civile dell'artista Venturino Venturi, la cui opera fu segnata dalla riflessione sui temi della memoria delle drammatiche ferite e inferte dal nazifascismo in Toscana. Tutto nasce da una riflessione sulla personalità di Venturino Venturi di cui corrono adesso i 20 anni dalla scomparsa, soprattutto nel vasto impegno civile. Venturino si è dedicato più volte alla memoria della storia del nostro paese e l'ha fatto da par suo, e vale a dire ha scelto, come nel manifesto che è simbolo di questi eventi, di rappresentare e di restituire la memoria degli eventi della Seconda Guerra Mondiale e dei lutti che hanno colpito maggiormente la Toscana, ma non nella iconografia tradizionale, ma sempre passa pensando ad altro ed ha pensato agli uomini, alle donne e alla famiglia. Non a caso il monumento alla famiglia umana per i martiri della resistenza di loro ciuffenna porta questo titolo. In mostra, grazie ai materiali di archivio del Consiglio regionale, le opere di Venturino Venturi e di altri rinomati grafici che tra gli anni 70 e 90 furono chiamati dalla regione toscana a comunicare tramite manifesti murali i valori connessi alle ricorrenze civili della liberazione, della festa dei lavoratori e della festa della Repubblica. Dovete pensare che il 1970 era 25 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del fascismo. Quindi era ancora una ferita viva nel corpo della regione e nel corpo di chi all'epoca erano i cittadini di questa regione. Ognuno in casa ha avuto un babbo, un nonno, un fratello, un marito, un qualcuno che avesse avuto o subito qualcosa dal fascismo e avesse fatto qualcosa per liberarsene. Quindi questo era il momento in cui ricordarlo era ricordare una memoria collettiva e il manifesto murale all'epoca era il mezzo principe di comunicazione tra le istituzioni e i cittadini. I manifesti che vengono esposti all'archivio Museo Venturino Venturi provengono proprio dal nostro archivio. Quindi sono molto lieta di questa occasione che consente all'archivio di esportare, diciamo così, alcuni suoi pezzi. Mostre ne abbiamo fatte molte anche all'interno del palazzo, soprattutto all'interno del palazzo, ma questa è proprio un'occasione nuova per noi per farci conoscere anche all'esterno del palazzo. L'esposizione, che arriva in concomitanza con il ventennale della scomparsa di Venturino Venturi, offre testimonianze della produzione monumentale dell'artista che da Firenze, con il monumento ai martiri del nazismo di Piazza Tasso, lo ha condotto a Loro Ciuffenna, dove ha realizzato il monumento alla famiglia umana, passando per Chitignano per poi raggiungere Castelnuovo dei Sabbioni, con il murale per la memoria della strage nazifascista del 4 luglio 1944. Una mostra bella, un modo per poter ricordare una delle figure più significative del Novecento Toscano, Venturino Venturi, un modo per dire qual è la parte giusta della storia da acquistare. Non è un caso che tra le varie iniziative ci sarà anche quella di recuperare un murales che racconta di una strage che ha colpito una popolazione, la popolazione toscana. Allora noi con questa iniziativa oggi qui vogliamo continuare a dire che investire sulla cultura è importante e che ogni iniziativa che andrà in quella direzione ci vedrà al loro fianco. Per esempio i manifesti che la Regione aveva fatto per il 2 giugno, ma anche i lavori a Cavriglia del murales di Venturino e la mostra che sarà fatta a Terra Nuova Bracciolini vi è una valorizzazione di un grande artista che è Venturino Venturi da una parte e di un altro importante grafico che è Andrea Rauk. Insomma la capacità attraverso l'espressione creativa del disegno di rappresentare temi, valori e aspetti sociali di una realtà, di un popolo e di una cultura molto forte.